Buongiorno, buongiorno a tutti, io mi scuso per queste immagini crudelle che vi sto a vedere. Lasci due. Buongiorno, buongiorno. Ma che cazzo sai a te? Sì, a Gallo, ha fatto un disastro, un intruio quello che ha fatto, ha messo tutto insieme. Mi stavo a vomitare il ciambellone che mi ha fatto mia madre stamattina. Ma ti rendi conto? Hai mischiato tutto, hai fatto quell'intruio. La pancetta, la cipolla, ha messo tutto insieme, ha messo, ha fatto bolli e tutto. Ma anche al San Giovanni ti danno una cosa del genere. Ma anche al Poliglini di Comberto prima, ha messo tutto insieme, hai messo. Ma che stai a dire? Io ti ho fatto passare tutto fino al Monta di Gavita, tutto ti ho fatto passare. Ti ho fatto passare il fatto che mi hai rubato a giocondare quella bella signorotta mediterranea che sta lì a Nubre a morire se ne pensi, quando poteva stare qua. Ti ho fatto passare il fatto che quando sono venuto a Parigi, sono andato a mangiare dentro a un ristorante, mi hai portato un piatto di pasta che pare che ci hai risputato dentro. Ma hai detto pure si è bublete, ma quale si è bublete? Ti ho fatto passare pure che non mi hai fatto fare il bidet per una settimana. Ho detto che mi pareva strano, lì per te, Galitè, Predarnitè, pensavo che ci avessi pure il bidet, visto che tu lo sei inventato del nome. No, manco quello. Ti ho fatto passare tutto, ma questo non te lo faccio passare. Mi potevi toccare tutto, ma la carbonara proprio non me la dovevi toccare. Allora, senti qua, una cazzo di pentola ci metti dentro l'acqua, solo l'acqua, la metti sul fuoco e la lasci bollire, solo l'acqua ci devi mettere, poi una cazzo di padella, solo una padella, ci metti un filo di olio, un filo, un filo, sai vuol dire un filo? un filo di olio, così, o più, a più, poi il guanciale, la pancetta, la testa di cassa o il champagne, la pancetta del guanciale, lo tagli fino, lo tagli, così, fino, ma io adesso mi sbrigo, è solo per farti vedere il concetto, Carlo, poi sei un po' intelligente, capisci da solo, lo tagli fino a cubetti, cioè devi tutta la parte intorno, lo vedi come deve essere, Pino Pino deve essere, lo pì, lo metti dentro la padella e lo metti sul fuoco, cittano del culo, ci metti qua, due anellini di cipolla ci metti qui e ci metti dentro, li metti a soffricciare, poi vi una cazzo di cucumella la chiamiamo a Roma, la cucumella, io so fare una cosa per due persone, cavolo, una per me e una per te, pinoco e ce la metti solo il giallo, il giallo lo metti sulla pasta, il giallo lo pì, scogli alla chiara, lasci tu a prendere il mostro della mia nonna e ce lo butti dentro, una volta che hai questa cosa qua, prendi il pecorino, pecorino romano, qua, pecorino romano, lo prendi e lo massagli l'uovo, lo sventri, l'uovo lo sventri col pecorino, ce ne metti un chilo e mezzo di pecorino dentro, qui una cazzo di forchetta e sbatti, qua, sbatti, ce sai, così, ce sai, e sbatti e aspetti, aspetti, una volta che l'acqua bolle, una volta che l'acqua sta a bollire, qui la massa e ce l'han fili, ce l'han fili per due persone, hai capito? quando vedi che la pancetta sta soffrire bene, qui il vino, il vino bianco no, un chardonnay e il che, che me, quello che cazzo ti fa a te, cincelare, mi chiami a me, te vanno mia nonna, devo portare il vino del paese suo, e io lo sfumi così, io lo sfumi, qua, e la sfumi così, qua, le puoi sciare, quando la massa è pronta, a Obelix, quando la massa è pronta, spegne il fuoco, ti incasso la massa così, eh, lo metti qua dentro, qui la massa, e la scordi, la scordi tutta, questa è una braffanculo, qui la massa, qui questa qua, e la metti qui dentro, poco lento, me la comanda, Gallo, poi, il composto che hai fatto prima, tu hai svelenato l'uovo col pecorino, e ce lo butti dentro, tutto quanto ce lo butti, e poi c'è una bella mescolata, oh, io faccio il mondo e sale, o faccio il fuoco, però, e gli era una bella mescolata, guarda, guarda, guarda che crema che è venuta, ah, cagagallo, guarda Obelix, qua, un padre, poi, il pincazzo del piatto, e ce lo butti dentro, questa è una carbonaca, cagallo, hai capito, non vedete cucinare come Cristo o come Anna, ah, si fa una cosa, continuate a mangiare l'omelette o pomelette di terra, che è messa tutta strana, chissà che ti stai a mangiare, cosa che è, la frittata delle patate, che noi se la mangiamo solo quando sono un figo, c'è rimasta la lampadina, ah, la farina mi saluzzi a voi, la farina mi saluzzi a tutti quanti, pure i pesce si vogliono saluzziare, oh, svegliate la testa di cazzo del champagne, che così si cucina, andavano per la cucina, ma giuro.